Guarderanno a colui che hanno trafitto sono le parole del profeta Zaccaria che preannunciava da dove sarebbe giunto lo spirito di grazia e di consolazione per l'umanità in attesa. Ed è anche il titolo di questo libro che introduce al mistero pasquale di Cristo. Nel cammino di Quaresima il testo propone di meditare sul contenuto delle 14 stazioni della via Crucis, unitamente alla lettura di antichi scritti cristiani e ai mosaici realizzati presso la chiesa di Santa Maria in Tolmin, in Slovenia. Queste immagini non sono semplici rappresentazioni, ma una forma privilegiata per contemplare come l'incarnazione si doveva manifestare in tutta la pienezza della vita umana, compreso un progressivo aprirsi alla condizione decaduta dell'uomo, dove tutto sprofonda verso l'ora per la quale Cristo è venuto. Ma proprio questo rende possibile il coinvolgimento integrale dell'uomo nel cammino di conoscenza e di adesione a Dio.